Mi chiamo Lorenzo Cantini, ho 23 anni e sono il cofondatore di una start-up di Firenze che è Kenstrapper e facciamo stampanti tridimensionali open source. Una stampante tridimensionale è una macchina che è in grado di realizzare un oggetto depositando un sottile strato di plastica ed oggi qui allo Spring Event abbiamo fatto una dimostrazione appunto del potenziale della stampa tridimensionale e è stato bello vedere come vari ospiti internazionali e non hanno raccontato come appunto le biblioteche si siano aperte alle nuove tecnologie quindi iniziando a creare dei laboratori in cui venissero appunto divulgate queste nuove tecnologie sia tanto stampanti tridimensionali quanto i laser cutter e quindi si è parlato anche di FabLab, appunto sono i posti in cui si può fare divulgazione delle nuove tecnologie e anche noi siamo tra i cofondatori di un FabLab a Firenze e abbiamo anche partecipato all'inaugurazione dello U-Lab a Pistoia e quindi molto probabilmente grazie al FabLab si riuscirà in Italia ad avere anche una maggior divulgazione sulle nuove tecnologie e chiaramente anche su quello che noi facciamo da più di due anni che sono le stampanti tridimensionali.